L'elezione di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti d'America ha reso felice Flavio Breatore, che condivide con l'imprenditore, un rapporto di stima e una lunga amicizia. In un'intervista rilasciata a Corriere della Sera, ha dichiarato che proverà a essere presente nel momento dell'insediamento del nuovo presidente USA. Credo che andrò all'insediamento ha affermato gli ho da poco inviato un sms. Vedi dit. Ce l'abbiamo fatta e... Breatore aveva già espresso il suo sostegno a Trump sui social, commentando. Go Donald. È la dimostrazione che sondaggisti, giornalisti, opinionisti, guru politici non capiscono un cazzo. Oggi definisce Donald un presidente di pace. Sarà un presidente di pace, costruirà ponti, non muri. E poi vuole le riforme. Giù le tasse, più lavoro. La sua scossa si sentirà pure in Italia. Anche da noi c'è bisogno di riforme, vedrete che il referendum vincerà il sì. Dopo la vittoria, Flavio Breatore ha inviato un regalo all'amico. Per la sua casa dorata di New York gli ho appena fatto un regalo. Tre bottiglie Magnum di Amarone a Neri. Stasera Donald potrà brindare col vino rosso delle nostre parti. Infine, ha ironizzato. La battuta finale dello show tè apprentice, Yomu Refired. Stavolta però è tutta per Hillary Clinton. Sei licenziata e le è stato fatale il bacio della morte di Obama. Chi se ne frega.